Da oggi i consumatori europei risparmieranno fino a 550 milioni di euro all'anno, stima il Vice Presidente della Commissione Europea, grazie alla nuova direttiva sui servizi di pagamenti, che tra le altre cose taglierà i costi extra delle transazioni con carte di credito o debito, sia online che nei negozi. Le nuove norme aprono anche il mercato europeo dei pagamenti a tutte le società che offrono questi servizi per una maggiore concorrenza. Ma il vero nodo infatti sono i costi delle transazioni per gli esercizi commerciali, secondo Roberto Calugi, direttore generale FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, al microfono di Anna Marino. Per quanto riguarda l'impatto dei costi extra, non tantissimi. Credo che chiunque di noi quando va a un ristorante o a un bar difficilmente si vede chiedere dei costi extra. Da quel punto di vista quindi non ha un grandissimo impatto. Avrebbe un impatto certamente migliore e maggiore se fosse intervenuta sui costi delle transazioni in sé, cioè sulle commissioni che purtroppo vengono ancora applicate sulle transazioni economiche, elettroniche e questo certamente favorebbe un maggior uso, anche per importi un po' più bassi. È un problema se gli importi bassi vengono pagati con le carte di credito? Se lei paga un caffè, un euro, a quello ci devo applicare anche il costo della transazione. Ma il vero problema non è tanto il costo in sé quanto il tempo. Una fila di 4-5 clienti tutti vogliono pagare con la carta elettronica. Se per ogni transazione ci mettiamo 2-3 minuti, facciamo prima di offrirle il caffè.